Ponte di Brenta, diverse le segnalazioni alla polizia in queste settimane. Che l'ex hotel Padovanelle si fosse trasformato in punto di degrado era ormai chiaro da tempo. I sopralluoghi della polizia hanno documentato la presenza di senza tetto, ma nel primo controllo, nelle scorse ore, gli agenti avevano rinvenuto anche armi nascoste. Un grosso macete e due coltelli con lama di 30 centimetri. Tornati sul posto, tarda sera, ecco spuntare due marocchini e un rumeno, armato di un altro coltello. I tre sono stati denunciati.